Il trono classico di uomini e donne quest'anno è stato abbastanza confusionario. Questo non perché si siano create delle dinamiche accese, ma perché i tronisti appaiono abbastanza confusi su come procedere con il loro percorso. Ora ci si chiede chi sceglierà Luca Salatino, mentre per Maria De Filippi appare già certo chi è il corteggiatore che ha davvero colpito Veronica Rimondi. Iniziando dal tronista romano, attualmente sta mandando avanti le conoscenze solo con Sorai Allam Ceruti e Lilli Pugliese. L'uscita di scena di Aurora Colombo sta generando non pochi dubbi sulla scelta di Luca. È stato abbastanza evidente che la nuova arrivata aveva conquistato il tronista. Basti pensare a Matteo Ranieri, che alla fine ha scelto Valeria Cardone, approdata nel programma quando il percorso era già iniziato. In molti non lo vedono preso da Soraya e Lill. Nell'ultimo periodo si dava quasi per certo che Luca Salatino avrebbe scelto Aurora. Proprio quest'ultima, in un'intervista per il canale YouTube Mondo TV 24, ha affermato di aver avuto lei stessa questa impressione. Ha ammesso, infatti, di essere convinta del fatto che sarebbe stata lei la scelta, se non fosse andata via. Pertanto, ha sottolineato che quella di Luca sarebbe, una scelta forzata, a U e D, in quanto non è poi così preso né da Soraya né da Lilli. Nonostante ciò, crede che a questo punto potrebbe scegliere la prima. In alternativa, ovviamente, Salatino ha anche la possibilità di lasciare il trono senza scegliere nessuna corteggiatrice. Manca poco alla fine di questa edizione e poi il programma andrà in vacanza. A dire la sua su chi potrebbe scegliere Luca ci pensa anche un'altra sua vecchia conoscenza, ovvero Roberta Giusti. Lei ha scelto Samuele Carniani, con cui oggi la storia d'amore procede a gonfie vele, e sembra avere la stessa opinione di Aurora su Luca, suo ex corteggiatore. Su Instagram, rispondendo alle domande dei fan, svela come secondo lei potrebbero andare le cose. Ero convinta che avrebbe scelto Aurora e sono convinta anche adesso che, se lei non si fosse comportata in quel modo, sarebbe stata lei la scelta. Lui era proprio partito per lei. Per come stanno le cose a oggi, almeno da quello che vedo, credo Soraya. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.